Ciao a tutti e benvenuti allo spazio che Radio Sayuz mi concede. Come sapete io parlo, il mio punto riguarda parlare del mondo del lavoro, del mondo del lavoro per chi ce l'ha e anche per chi non ce l'ha il lavoro. Questa settimana, questi 15 giorni sono successe parecchie cose interessanti da vari punti di vista. La prima interessante è quella della bocciatura da parte dei lavoratori dell'Alitalia dell'accordo che le organizzazioni sindacali, CGL e Cisleguil, ma anche altre minoritarie avevano stipulato con il governo per il salvataggio di questa azienda. Io non sto a tediarvi con tutti i meccanismi di voler salvare questa azienda, quanti soldi sono stati spesi per il primo, secondo, terzo salvataggio eccetera, quanti soldi i manager che dovevano salvarla hanno preso, si sono portati a casa con la liquidazione, mentre chi ci lavora erano stati prospettati ulteriori sacrifici, cioè un'ulteriore riduzione di salario, un aumento di orario di lavoro e in questo caso i lavoratori dell'Alitalia hanno bocciato, hanno detto no al referendum con ben 67% di voti negativi, ma questo voto negativo a un accordo che le organizzazioni sindacali avevano fatto con una controparte da una parte e con il governo non è il primo che viene bocciato, vi ricordo anche l'accordo bocciato dai call center, quello di Almaviva dove le organizzazioni sindacali avevano prospettato un accordo e una volta messo al voto dai lavoratori è stato comunque bocciato questo accordo e anche come quello dell'Alitalia, molti si sono posti la domanda e poi subito è sparita dalla circolazione dai medi a questa domanda ma le organizzazioni sindacali chi rappresentano? Le organizzazioni sindacali oggi come oggi non rappresentano i lavoratori, sono una stampella di questo sistema perché le soluzioni che danno alle crisi aziendali, alle varie crisi che poi si susseguono non sono niente altro queste soluzioni che soluzioni compatibili con questo sistema, compatibili con il sistema del profitto, compatibili con il sistema di sfruttamento, infatti non si guarda, non c'è una prospettiva di come poteva essere all'inizio del secolo, cioè che tutti i proletari, tutti i lavoratori, se poi questo nome proletari può dar fastidio a qualcuno, tutti i lavoratori sono sfruttati indipendentemente da chi in quel momento ricava profitto dalla propria forza lavoro, per cui può essere una volta l'Alitalia, ma può essere anche l'Air France, può essere una fabbrica con un, lasciatemelo dire, padrone, ma in realtà ormai anche i padroni sono stati scalzati dai manager italiani o da un manager straniero e quindi nell'intento, nell'ottica chiusa che hanno ormai queste organizzazioni sindacali è quella di salvare l'azienda, cioè quindi sono all'interno del sistema che è un sistema aziendalistico dove non è possibile vedere cosa fa la fabbrica vicina, come sono sfruttati i lavoratori della nazionalità vicina, eccetera, quindi non c'è questa unione che ci dovrebbe essere da parte dei lavoratori e quindi le soluzioni che possono dare sono le solite soluzioni che darebbero qualsiasi padronato, qualsiasi manager che gestisce l'azienda e che sono quelli di diminuire i costi del capitale variabile, che sarebbero i salari in poche parole, mentre il tasso di profitto calcolato a livello, come lo calcola Carlo Marx, continua a decrescere proprio perché la quantità di capitale costante, ne abbiamo parlato già una trasmissione tempo fa, capitale costante è sempre più grande, sempre più investimenti si dedicano e si investono per il capitale costante che poi sono soldi che vanno direttamente all'interno del prodotto e l'unico che può creare il profitto è il capitale variabile, cioè i salari, mentre i lavoratori che creano questo profitto tendono in continuazione diminuiscono, anche se il grado di sfruttamento aumenta, cioè si estorce più plus valore da meno lavoratori, però in generale facendo il calcolo la tendenza è questa diminuzione del profitto. Per cui queste organizzazioni sindacali che non vedono più una società diversa, allora per vedere una società diversa e quindi le soluzioni da dare non ci sono le soluzioni alternative se rimaniamo in questo tipo di società, ma immaginarsi una società diversa dove la produzione è per l'umanità e non per il profitto, dove le fabbriche non si fanno concorrenza ma sono organizzate per creare beni per il popolo in armonia con l'ambiente e la natura, allora sì, si iniziano a vedere soluzioni, altrimenti non è possibile, le soluzioni sono sempre le stesse, cioè riduzione di salario, aumento dell'orario di lavoro, aumento dello sfruttamento e a tal proposito sapendo che aumentando lo sfruttamento aumentano anche gli incidenti sul lavoro. C'è una notizia del 2 maggio di quest'anno, vi leggo proprio a tre righe da parte dell'Inps, che dice nei primi tre mesi del 2017, i primi tre mesi del 2017 con un aumento di fortuni sul lavoro mortale, 190 decessi, 14 in più rispetto al 2016 e io sono andato a prendermi quello del 2016, il quale diceva sempre la relazione dell'INAIL che diceva che c'erano 1.247, hanno riguardato casi di morte, quindi riguardanti il 2015, che diceva che erano 94 in più rispetto al 2014, quindi nel 2015 avevamo 94 nel totale morti in più del 2014, nei primi tre mesi del 2017 avevamo 14 morti in più del 2016, quindi in pratica si continua a morire sempre di più all'interno dei posti di lavoro, ma perché si muore? Perché le misure di sicurezza sono costi e questi costi fanno aumentare il costo del prodotto finito, ma non solo, lo sfruttamento viene anche sia lesinando sulle misure di sicurezza, ma anche sulle condizioni come dei ricattabilità che i lavoratori sono sottoposti. Una trasmissione di poco tempo fa io parlavo dei voucher, perché si arriva a pagare i lavoratori con i voucher, perché i lavoratori devono essere just in time anche loro come le merci, cioè giusto nel tempo, mi servono solo in quel momento, quando non mi servono devo avere la possibilità di sfarmene. E parlavo dei voucher, i voucher che sono stati bloccati dal governo e io dicevo che un'altra forma di voucher ci deve essere, la riporteranno fuori in altro modo, ma proprio perché il sistema è arrivato a produrre in questo modo, o c'è una forte risposta da parte dei lavoratori, ma della società in generale, di chi lavora a chi non lavora contro questo sistema di sfruttamento, o altrimenti la strada è segnata senza voucher, o come si possa chiamare, ma questo sistema di adoperare i lavoratori quando servono e quando non servono, cacciarli fuori. C'è un articolo del giorno del quotidiano, il giorno del 5 maggio, dove Sacconi, che è il ministro del welfare, spiega il titolo questo, voucher, soluzione Sacconi, tetto a 2000 Euro l'anno e torna al lavoro a chiamata, assunzioni dopo 400 giorni. Quindi i voucher buttati fuori da una parte non possono niente altro che ritornare dall'altra, se non esiste una risposta forte da parte del mondo del lavoro. Ora poco valgono la raccolta di firme, i vari referendum, eccetera. Bisogna andare in piazza con manifestazioni, far prendere coscienza soprattutto ai lavoratori che non hanno presente questo problema, discutere con loro, fare gruppo. Invece se voi assistite per le notizie dei media nel mondo del lavoro scomparso non se ne parla più, tranne delle situazioni eclatanti. Situazioni eclatanti come può essere quella di una fabbrica francese dove i lavoratori hanno posto delle bombole di gas sopra una cisterna di propano e hanno minacciato di farlo saltare. Questa è una fabbrica occupata da tre mesi mi sembra, fabbrica francese, se non gli viene data una soluzione, se non si trova una soluzione per questi 278 lavoratori. Quindi si ritorna al vecchio ludismo dove i lavoratori vedono le macchine come nemici, come strumenti che portano via il posto di lavoro a loro, quindi la possibilità di vivere e di mantenere la propria famiglia. È evidente che, ripeto, se non si vede una società diversa e ci si mette con i piedi e le mani internamente a questa società non si possono dare soluzioni come il sindacato, la CST, dà a questa fabbrica che si chiama la GMGS di francese, dove, e sembra una cosa logica, dove il sindacalista della CST ha una domanda, se questa fabbrica può vivere risponde, certo si potrebbe produrre tutte queste cose, questa fabbrica produce elementi per la Renault e la Peugeot e quindi dice tutte queste cose a basso costo fuori dalla Francia, ma che senso ha sprecare denaro e energia per trasportare un pezzo dalla Cina e montarlo su un'auto che si vende in Francia? E questo sindacalista continuano. Queste sono le assurdità della globalizzazione. No, non è vero, vorrei ripetere a questo sindacalista, non è un'assurdità della globalizzazione, è l'assurdità del capitalismo che produce dove può sfruttare la forza lavoro di più e quindi alla fine il prezzo per unità di prodotto è minore e quindi va lì. Comunque lui dice queste sono le assurdità della globalizzazione, come si dovrebbe fare allora per salvare questa fabbrica? E lui dice, semplice, i pezzi che servono alle auto vendute in Francia si fanno in Francia, quelli per le auto vendute in Cina si producono in Cina. Questo sembra anche un buon senso dove sono le fabbriche che devono andare, quindi i mezzi di produzione che devono andare dove servono, i lavoratori che devono spostarsi come succede in centinaia magari di chilometri per andare a lavorare in una fabbrica, ma perché questa fabbrica è stata spostata o è stata portata nel territorio, sono le fabbriche che dovrebbero andare, quindi i mezzi di produzione che dovrebbero andare dove c'è bisogno di produzione. Quindi continuo proprio perché la cosa è interessante e quindi riguarda anche un po' le elezioni francesi, perché questo è un articolo uscito da Repubblica di domenica 14 maggio e dice, e continua l'intervista, vogliono chiudere ulteriormente quindi oltre alla fabbrica che chiudono, questa la fabbrica produce in un piccolo paesino nel cuore della Francia e dice, vogliono chiudere la stazione ferroviaria, dobbiamo difenderla, serve a tutto il circondario, perché la vogliono chiudere? Privileggiano le linee di alta velocità che collegano le città, noi delle campagne non interessiamo, non interessiamo perché c'è poco profitto e via dicendo, ma c'è interessante la cosa che dice che c'è anche, che distribuisce i volantini, un certo Bernardo Bercael, 78 anni, distribuisce i volantini per Mellencon, in questo paese siamo stati il primo partito alle elezioni presidenziali, ora ci riproviamo alle politiche. Lei come ha votato, è la domanda del giornalista al secondo turno, ha scelto Macron? È dura da dire, ma glielo confesso, per la prima volta nella mia vita mi sono astenuto, non l'avevo mai fatto, ho addirittura votato Giscard contro il pericolo di Le Pen padre e se avesse vinto Marine era un rischio, lo so, i nazisti hanno fatto prigioniero mio padre in guerra e io l'ho conosciuto solo a sette anni, eppure ha deciso di correre il rischio, sono stufo di dover scegliere il meno peggio. Sul lungo tavolo della cena in fabbrica, continua l'articolista, la politica va come il pane, al ballottaggio Jean Marc si è astenuto, perché votare Macron che ha sostenuto l'assurda legge sul lavoro? Vincent non è d'accordo, volevo astenermi, poi ho incontrato un amico che fa l'allenatore di rugby, mi ha raccontato la paura dei ragazzi marocchini nella squadra se avesse vinto Le Pen, così mi sono turato il naso e ho votato Macron. Ecco, sono interessanti queste piccole frasi che dicono questi lavoratori perché si capisce che senza una prospettiva, senza un organismo, che può essere sindacale, che ti dà una prospettiva di come avere una, come si vede una società diversa, dove il profitto non sia il primo obiettivo, ma sia la produzione per la società, per l'umanità in armonia con l'ambiente, succedono queste cose, se hai paura dei nazisti che possono andare al potere, hai paura che la fabbrica venga chiusa e quindi voti in questo caso alle politiche si votava il meno peggio. Invece in realtà noi come ultimi, come lavoratori, come disoccupati, chi è disoccupato, deve vedere una società diversa, una società dove sia collegata, tutta una società collegata, dove la produzione, che è il motore di tutte le società, sia organizzata per la collettività e quindi tutti i lavoratori dovrebbero essere uniti e la famosa frase proletaria di tutto il mondo, unitivi, è più attuale che mai. Spero di, con queste poche note di avervi dato materiale per discutere, se volete potete anche su Facebook dire la vostra e vi saluto alla prossima. Ciao! Ciao!